ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco sanogil a cosa serve sanogil a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dentifrici e dentifrici speciali è commercializzato in italia dall'azienda l manetti h roberts company società italo britannica spa informazioni commerciali titolare l manetti h roberts company società italo britannica spa concessionario l manetti h roberts company società italo britannica spa categoria di appartenenza dentifrici e dentifrici speciali confezioni sanogil pasta dentifricio 75 ml indicazioni indicato per l'igiene orale anche dei soggetti a rischio di disturbi gengivali descrizione e caratteristiche la placca generata dai batteri a causa di irritazione e arrossamento delle gengive è perciò importante adottare efficaci azioni preventive nell'ambito di una corretta igiene orale neosanogil bianco contiene un efficace complesso antibatterico che aiuta a combattere la placca presente nel cavo orale aiuta a prevenire l'arrossamento delle gengive avvertenze al di sotto dei 7 anni usare in quantità ridotta sotto supervisione di un adulto per minimizzare l'ingestione in caso di uso di integratori a base di fluoro chiedere consiglio al dentista componenti e ingredienti acqua sorbitol idratido silica peg 32 sodium lauri sulfate aroma cellulose gam zinc citrate sodium fluoride triclosan limonene c 77 1891 contiene fluoruro di sodio 1450 ppm f fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato